Aziende ittiche, oleifici, aziende vitivinicole hanno incontrato a Palazzo Buterre il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli. Dobbiamo cercare di mantenere ed implementare il livello di buon funzionamento dell'impianto di depurazione della frazione esordito il sindaco, livello migliorato anche grazie all'attivazione della quarta linea del depuratore, importante arteria, riattivata lo scorso 9 agosto, anche se per essere completamente efficiente bisogna riattivare le altre due pompe di sollevamento. Infatti la prossima settimana la ditta eseguirà i lavori per riattivare il tutto. Il sindaco ha quindi chiesto la collaborazione di tutte le aziende presenti affinché si palesino possibili criticità per arrivare di concerto a soluzioni volte al superamento delle problematiche per mantenere il depuratore di aspre efficiente ed il mare pulito. In particolare la riunione è servita anche a cercare di prevenire i consueti ed annuali problemi derivanti da reflui anomali, scarto della molitura e della spremitura delle uve che confluiscono al depuratore illecitamente. L'elemento inquinante più evidente è costituito infatti dagli oli e grassi che di contro le ditte autorizzate allo scarico smaltiscono correttamente mediante il ritiro da parte di aziende che li trasformano in saponi eccetera. Durante l'incontro è stato evidenziato che non tutte le ditte che scaricano nella fognatura sono munite di regolare autorizzazione. Lo scarico non a norma delle acque comporta il sovraccaricamento del depuratore e si rischiano anche pesanti sanzioni da parte degli organi preposti al controllo. Dunque la causa maggiore che crea problemi al corretto funzionamento del depuratore sono i reflui sversati illegalmente e provenienti da attività abusive non facilmente individuabili. L'impatto immediato che provoca lo scarico abusivo è l'otturazione dei tombini. L'ingegnere Gaetano Mangano di Soteco ha affermato che attualmente il depuratore comunale lavora al 75% della sua possibile efficienza ma che purtroppo continuano a registrarsi dei picchi di sversamenti anomali durante la giornata che sovraccaricano il depuratore. A tal proposito si chiede alle ditte di modulare gli scarichi evitando di concentrarli tutti nella stessa fascia oraria in concomitanza con lo scarico delle civili abitazioni, diluire dunque lo scarico e attuarlo nella fascia oraria che va dalle 23 alle 7 ed evitare che il depuratore vada in tilt per i picchi di scarichi che arrivano durante le ore diurne.